Zona rossa sì, ma qualcuno si salva. Eppure è da un anno che le cose nel mondo del lavoro non vanno più come prima. Fiorai, rivenditori di giocattoli e beni di prima necessità, Ferramenta, come altre categorie annoverate tra i servizi essenziali, restano aperti anche a Pesaro, ma l'affluenza per via delle nuove restrizioni scarseggia anche qui. Così dopo un anno sono proprio loro a tirare le somme di quel che è cambiato e di tutte le ripercussioni che stanno subendo. Non c'è nessuno in giro, purtroppo per colpa di questo siamo messi un po' così. Andiamo avanti e vediamo. Le ferramenta tra l'altro erano rimaste aperte anche durante il primo lockdown un anno fa. Sì, si poteva stare aperte, io sono stato chiuso i primi 20 giorni di marzo perché qui la situazione era pesante. Poi dopo ero aperto ma non c'era nessuno uguale, anche se stavi mezza giornata aperto non è che cambiava molto. Se la passano un po' meglio i rivenditori dei beni di prima necessità per l'infanzia, che nonostante il calo del lavoro per via della pandemia, hanno iniziato a lavorare anche su prenotazione, nell'ottica di evitare assembramenti inutili in negozio. Il cliente viene avvisato prima e sa già quando può ritirare la sua merce. In questo settore qui tantissimo sulla prenotazione perché la vendita giornaliera non c'è più. Le mamme vengono già da prima a vedere questi articoli, queste cose che potrebbero essere necessarie. Noi siamo stati tra i primi a riaprire durante il vecchio lockdown e anche là quella volta era stata un pochino più difficile la cosa perché anche le stesse aziende fornitrici avevano tardato nelle consegne dei prodotti e ci siamo trovati un attimo in difficoltà. Quest'anno, tuttora, anche in questa mattina ho ricevuto merce, i corrieri tranquillamente consegnano. E se da un lato il mondo del lavoro subisce le sue trasformazioni, dall'altro in tempi di Covid continuano gli acquisti che riescono ancora a portare nelle case un po' di serenità come quelli legati al mondo delle piante e dei fiori. Abbiamo notato che le persone acquistano i fiori benvolentieri da tenersi in casa un po' come una sorta di rivincita a quello che è non lo stare a casa perché la gente lo capisce ma a logicamente non avere comunicazione, quindi socialità e noi cerchiamo di fare il nostro lavoro.